Ciao amici, sono Riccardo Rossi, il manager di Fridiflizioni Roma e oggi voglio fare un classico che non è conosciuto come altre copterie ma è uno dei miei favoriti, è chiamato Brooklyn è stato chiamato dopo una delle aree di New York, come Manhattan o le Bronx e è fatto usando Bullet Rye, Maraschino, Amel Pecan e Dry Bermond cominciamo, prima di mettere 60 ml di Rye Whisky io uso 30 ml di Nolli Proff Dry Bermond potete usare quattro piacere, ma mi piace questa e dopo questo mettere 8 ml di Proff potete usare 7.5 ml di Maraschino e 7.5 ml di Amel Pecan ma è più difficile da trovare potete usare quattro piacere ho tre bottone e potete usare 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 pot un po' di stile più e questo è tutto scusare i occhi voilà Ora la farmo con una piccola maraschino sherry, la stessa brand di maraschino che abbiamo usato prima ma non prepariamo troppo giusto del sherry, se vuoi essere davvero bello. Ecco qui, la broglie è pronta, saluto!